Buongiorno, buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di alcune teorie su Warpies. Vi ricordo che sono solo teorie, quindi niente di certo. So bene che ipotizzare sul futuro del manga di Oda ormai è diventato uno sport mondiale. E ci sta, perché ci divertiamo e ci scambiamo le opinioni. Ma ovviamente ci sono quelle teorie che tu speri che si realizzino perché ti piacciono a prescindere. Ecco, è grazie a questo pensiero che nasce questo video. Cioè le teorie che vorrei che venissero confermate. Quindi direi di iniziare e di volare con la fantasia. Anzi no, perché in questo video non sarò da solo, ma sarò accompagnato da One di Laboface. Ma ora direi di non perdere altro tempo e di iniziare subito. Il misterioso uovo di Goldie Roger. Questo è sicuramente un mistero che è rimasto ancora in sospeso. Per ora non sappiamo cosa sia quel uovo che abbiamo visto svariati a volte sull'Oro Jackson. Naturalmente le teorie si sprecano ed io spero sempre che lì dentro ci sia una creatura, una ancestrale, antica. E vedendo come è fatto un uovo ricorda le uova di drago del fantasy, tipo quello di Yoshi. Quindi sì, io penso che lì dentro ci sia un drago, uno occidentale. Io ho sempre sperato che fosse l'arma ancestrale Uranus, ma con la distruzione di Rulusia questo pensiero è andato un po' a scemare. Ma noi sappiamo che sull'isola di Wano, in antichità, il leggendario dio della spada Aruma, decapitò un drago nei cieli della capitale dei fiori. E quello era un drago occidentale, come vediamo nel one shot del samurai. Quindi probabilmente quell'uovo trovato da Roger e Churma potrebbe essere un lascito di quei draghi che un tempo vivevano nel mondo di One Piece. Ma ciò non toglie che sia a tutti gli effetti l'arma usata da him. Ricordiamo che il simbolo dei draghi cenesti è lo zoccolo del drago cavalcacieli. Per cui, per me, quello era un uovo di drago. L'incontro tra Dragon e Luffy. Personalmente, per quanto siamo abbastanza certi che questa teoria si religi nel manga per ovvie ragioni di trama, mi piacerebbe se questo incontro tra padre e figlio non avvenisse in maniera sorenne, ma piuttosto sotto forma di gag. Un po' quindi come ha già fatto Luffy quando si è interfacciato con molti grandi personaggi dell'opera. Basti pensare per esempio a Barba Bianca. Nello specifico immagino l'ipotetico incontro dove si vedono finalmente i muviwara a posti frontalmente rivoluzionari. Quindi i due schieramenti sono nei lati opposti dell'inquadratura, per poi passare ad una scena dove nel corso di un grande silenzio si vede Luffy camminare verso suo padre, andare oltre e raggiungere direttamente i sapori di Ivankov, provocando ovviamente la caduta nelle braccia di tutti. Tornando a noi, poi voglio dire, già Luffy in diverse occasioni non ha mostrato il minimo interesse per il padre, e quindi non vedo perché dovrebbe regalarci una scena commuovente quando incontrerà il suo genitore. Il ritorno di Mr. Chew Esattamente, quanto vorrei che questo grandissimo personaggio ritornasse ed incontrasse nuovamente il suo amicone Ruffy cappello di paglia. Cioè, davvero, grazie all'arco narrativo di Impel Down abbiamo imparato ad apprezzarlo tantissimo, e quanto si è sacrificato per far sì che Ruffy e company riuscissero a fuggire da Impel Down, è diventato di conseguenza un mega personaggio. Noi sappiamo che dopo quell'evento, egli divenne il nuovo regino del livello 5,5 di Impel Down, quindi sì, è ancora vivo. Ma come potrebbe ritornare libero? Bella domanda, io spero che in un modo o nell'altro il carcere di massima sicurezza di Impel Down venga distrutto, così da far evadere tutti i prigionieri situati all'interno, tra cui anche Mr. Chew. Solo così potrebbe ritornare nella storia corrente e rincontrare Ruffy. Chissà, forse accadrà proprio nel finale? Naturalmente, se venisse distrutta Impel Down, anche Doffi ritornerebbe libero. Shanks il guardiano. La seconda teoria che mi piacerebbe vedere e realizzarsi nel manga è quella di inquadrare Rosso come una sorta di esaminatore perché voglia prendere il One Piece. Con ciò ovviamente non mi riferisco a lui come una persona esclusivamente dalla parte di Ruffy e che voglia che sia lui e solo lui a reclamare il One Piece, anche perché una cosa del genere renderebbe l'avventura del gommoso scontata. Quello a cui mi riferisco, Rosso che mette alla prova tutti i candidati che competono per il titolo di Red dei Pirati, compreso il suo amico, a divenire il conquistatore della Grand Line, anche perché personalmente credo che Shanks stia cercando di trovare la persona giusta per compiere qualcosa per cui il suo capitano anni prima era arrivato troppo presto. I poteri di Monkey e di Dragon Dragon è sicuramente uno dei personaggi più enigmatici dell'intera opera creata da Echiro Oda. Le teorie sui suoi poteri sono tantissime, ma io vorrei dire comunque la mia, accantonando l'ipotesi super plausibile del Rogia del Vento. Quindi, che potere potrebbe possedere il padre di Rufy? Io ho due ipotesi da esporvi. La prima riguarda un frutto del diavolo di tipo Panamisha, quello del meteo per l'esattezza. Cioè sarebbe interessante se avesse un potere capace di controllare le condizioni climatiche, così si spiegherebbe perfettamente ciò che accadde a Longtown quando Dragon salvò Rufy. Poi un frutto del genere non è mai apparso e penso che non sia nemmeno così impossibile. La seconda riguarda invece uno zone mitologico, ovvero quello del drago occidentale. Sappiamo che Oda dona ai mitologici dei poteri secondari, quindi se possedesse quel frutto potrebbe aver ricevuto come potere secondario quello di manipolare il vento e perché no il clima in tutto e per tutto. Ricordiamo che la bandiera dei rivoluzionari ci mostra un volto di un drago e sul notebook di Oda che vedemmo anni fa dove ci sono le info sui rivoluzionari vediamo proprio un drago occidentale disegnato su. Io però avevo un sogno, speravo che Dragon possedesse l'arma ancestrale Uranus e che quest'ultima fosse un drago. Ma vabbè, avrà sicuramente tutti e tre i ghiachi a livelli inimmaginabili, questo lo do per certo. La mamma di Luffy o meglio la genealogia dei monkey. Lo so, questa l'ho inserita più per il meme che per altro, ma devo ammettere di essere davvero curioso riguardo alla famiglia del protagonista. Infatti, seppur conosciamo sia il padre che il nonno del cappellaio, mi piacerebbe che Oda ci rivelasse qualcosina sulle figure femminili di questa famiglia e possibilmente anche il motivo per cui tuttora non abbiamo mai sentito parlare nessun personaggio. Anche perché, ok, un conto è la moglie di Dragon, la cui esistenza era celata anche a rivoluzionari. Ma come mai non siamo a conoscenza anche della compagnia di Garp? Cioè, voglio dire, il Marine è un eroe a livello mondiale, su cui un po' di gossip sicuramente sarà girato. Inoltre, nel corso della sua lunga carriera, da dei diversi colleghi che ha avuto, francamente dubito che Sengoku, Utsuro o qualcuno della vecchia guardia, non abbia avuto il piacere di conoscere, magari con dare in vita, la dolce metà di Garp. Tornando a noi, comunque, come sappiamo, su questo tema le teorie si sprecano da anni. Infatti, c'è chi dice che la madre di Luffy fosse un drago celeste e che quindi il ragazzo sia letteralmente l'unione del clan della D e degli dei. C'è chi dice che sia stata uccisa dai nobili mondiali, scatenando così le rei dragon. Ma la verità, in fondo, la sappiamo tutti. È il coccodrillo, la madre della scimmia. La Huff-Till è la Reverse Mountain. Questo è sicuramente uno dei miei più grandi sogni che riguardano proprio One Piece. Ossia, vorrei tanto che l'Huff-Till si trovasse al centro della Reverse Mountain. Perché se ci pensate, è fattibile come cosa. Dato che così facendo, l'isola leggendaria non può essere trovata improvvisamente girando per il nuovo mondo. Ma hai bisogno dei quattro Road Pony Griffo per scoprire l'ubicazione esatta. E le quattro pietre antiche sono rosse, come la Red Line. Quindi, super inizio. Inoltre, i pirati, dopo aver nascosto i propri tesori e ricordarsi dove li hanno messi, disegnano una X su di una mappa. E nel mondo di One Piece esiste una X gigantesca, che sarebbe poi quella della Reverse Mountain. Poi, dato che i Mugiwara dovranno fare il giro completo, non trovo assurdo che si trovi lì. Ora non so se sta all'interno della montagna rossa, o sopra, o sotto. Ma io spero che si trovi lì. Perché se fosse così, sarebbe fatto molto bene, senza cadere in qualche becero retcon. Vi ricordo inoltre che quando i Mugiwara entrarono nella Grand Line, mentre salivano la cascata inversa, l'autore ci mostrò questi archi, su cui vediamo alcune antiche iscrizioni. Coincidenze? Io non credo. I poteri di Gorosei. La quarta ipotesi che mi piacerebbe vedere realizzarsi nell'opera, è sì, di quali poteri sono provvisti i Gorosei. Infatti, noi tuttora, dopo 1080 capitoli, ancora non sappiamo nulla su queste cinque figure, né tantomeno se possedga un'abilità combattiva. E, sebbene ci siano indizi a favore delle loro skill bellicose, come la spada in mano e il Gorosei Gandhi, non possiamo ancora darglielo per scontate. Quindi, in definitiva, vi piacerebbe innanzitutto conoscere se combattono mediante l'impiego dei frutti del diavolo, ma soprattutto se sono capaci di sfruttare delle rogo shiki. E chissà, magari se si rivelassero più vecchi di quello che pensiamo, forse potrebbero essere loro i futuri di queste particolari arti marziali, ma solo il tempo ci darà una risposta. Comunque, se dovessi dire una cosa che mi piacerebbe vedere riguardo alle loro abilità combattive, sarebbe la fusione dei poteri legati al putta e il gun ipotizzato nella sua teoria, mischiati però alle rogo shiki, dove le due abilità si fondono per dare origine a dei combattenti d'elitto. La Madame Shirley Ancestrale Eh sì, l'avete sentito bene, ma cosa intendo per Madame Shirley Ancestrale? Allora, noi sappiamo che la sorella di Arlong possiede un potere di preveggenza esagerato, e può prevedere una cosa che accadrà anche diversi anni di distanza, e le sue previsioni sono sempre state corrette, e non ha mai sbagliato. E dato che One Piece è ciclico, e le cose passate ritornano anche nel presente, tipo le armi ancestrali, cioè Poseidon è un potere che si risveglia ogni totta anni in una principessa serena, la volontà ereditata funziona più o meno allo stesso modo, quindi mi sono chiesto, e se 900 anni fa fosse esistita una Madame Shirley Ancestrale, che possedeva questo potere di previsione assurdo, ed ha predetto a Joy Boy ciò che sarebbe successo alla fine di quegli anni bui, e della sua probabile sconfitta, e stando a questa previsione, Joy Boy avrà deciso di salvaguardare la storia di quel secolo, facendola scrivere appunto su dei blocchi indistruttibili, e poi le ha spostati per il mondo, perché è quasi impossibile che l'abbia fatto dopo la sua sconfitta, ma penso che lo spostamento delle antiche pietre sia avvenuto prima della sconfitta e morte di Joy Boy, e l'unico modo per quest'ultimo di sapere i fatti prima che accadessero, è che all'epoca esisteva una Madame Shirley Ancestrale, e forse sempre grazie a quest'ultima ipotetica persona, Joy Boy sapeva che sarebbe tornato dopo 800 anni, pippa mentale assurda? Sì, ma quanto sarebbe figo se fosse andato realmente così? A me piacerebbe un botto. La cattura di Luffy. La quinta teoria è forse tra tutte quelle proposte la più vecchiotta e probabile, ma non è come mi piacerebbe vedere la cattura da parte della marina dell'imperatore Monkey di Luffy, e non tanto per le implicazioni narrative a cui questo gesto potrebbe portare, ma più che altro per una singola scena che mi piacerebbe vedere, ossia Luffy sul patibolo e l'arrivo della surma con gli alleati di Mugiwara per salvare il capitano, in cui si potrebbero arrivare stile marine ford non solo la flotta e la sanni, ma anche tutte quelle persone che il gommoso volontariamente ed involontariamente ha aiutato nel corso della sua avventura. Quindi a partire dai terreni liberati, per citarne alcuni, Drammala, Bass, Dressros, Ewano, per poi passare alle razze umanoidi, ossia visoni uomini pesce, forme pirata attuali passate, e magari potrebbero fare una capatina, perché no, anche gli azionemici. E se questa teoria si rivelasse esatta, sarebbe la giusta scusa per Oda, per fare incominciare la grande guerra finale contro il governo, così da riunire grazie al potere di Luffy e tutti gli alleati sotto un unico vessillo, che magari, se non chiedo troppo in un primo momento, potrebbero essere guidati dal Dio. Ed anche questo video è giunto a termine, spero che i nostri sogni slash teorie siano state di vostro gradimento. Scriveteci ovviamente i vostri sogni teorie qui sotto nei commenti, e non vi dimenticate di passare sul canale di One, che sarebbe Labo Fist, dove analizza i frutti del diavolo fino ai minimi dettagli, e trovate altri contenuti a tema One Piece e non. Lo ringrazio per aver accettato la collaborazione, e troverete i link dei suoi social un po' dappertutto. Inoltre, volevo dirvi che è appena iniziata una collaborazione con Manga Kaze, che sarebbe un sito dove puoi acquistare manga, e soprattutto puoi trovare anche le versioni limited variant giapponesi, a prezzi più che convenienti. Passate ovviamente sul loro sito, che troverete in descrizione e nel primo commento. Non vi dimenticate di inserire il codice ILGUN91, per ottenere il 5% di sconto. Passate anche a dare un'occhiata al video uscito sul secondo canale, non vi dimenticate di entrare nel canale Telegram di One Piece Unity, e noi ci sentiamo, come sempre, in un prossimo video.